C'è chi non rinuncia all'ebbrezza del primo bagno a Porto Novo, nemmeno quando la spiaggia non c'è più. Dopo che la mareggiata di Pasquetta ha corroso l'intero litorale adiacente allo stabilimento della Capannina, sono molte le persone che, scaldate dal primo sole di aprile, non si lasciano intimidire dal cratere di Ghiaia, che equipara sempre più l'esclusivo stabilimento di Maurizio Sonnino ad un vulcano. La giornata è ideale per prendere la prima tintarella e per stare qui a respirare l'aria di mare, l'aria estiva. Guardate che meraviglia, che mare! Poi si sta veramente bene, c'è un leggero venticello, però vi dico che mi sono anche spogliata, è caldo, è strepitoso, poi è il paradiso marchigiano per me e per noi. C'è preoccupazione però tra gli storici clienti del balneare, che temono che questa volta i danni siano troppo importanti per riuscire a metterci una toppa in tempo utile per tornare a godere di uno degli scenari più belli del Conero. Per me che è un cliente è un po' relativo, ma per i proprietari degli stabilimenti non è una cosa semplice. E secondo lei quale sarebbe la soluzione ideale? Niente, mettere dei frangifrutti davanti, anche a pello d'acqua, non rovina niente e almeno non porta via la sabbia. Finché si insiste così, andremo avanti così. Speriamo nel tempo che qualche mareggiata dal nord riporta la spiaggia dalla torre, diciamo, un po' più verso sud. Nel frattempo i ristoranti della Baia registrano già il tutto esaurito, con il conseguente congestionamento di traffico che come ogni weekend di sole caratterizza l'intera zona. E visto che con l'arrivo della bella stagione lo spauracchio delle code interminabili non è più solo un lontano ricordo, il Comune rassicura che per giugno saranno varie le misure messe in campo per garantire una migliore viabilità. Saremo pronti con la zona di accesso controllato, cercheremo di contingentare le presenze per garantire una fruibilità in sicurezza, ma soprattutto sostenibile, potenziando il mezzo pubblico, quindi con le navette, ampliando e soprattutto moltiplicando e raddoppiando il parcheggio a monte, quindi avremo la possibilità di lasciare le macchine a monte, di scendere in sicurezza con mezzi pubblici, garantendo ovviamente le attività produttive, le attività turistiche, le attività ricettive e soprattutto potendosi godere una bella giornata di mare in sicurezza, soprattutto all'interno del Parco del Conro.